Sì, ma dopo te dà qua la prima volta che lo riprende, già fai, già fai, oh, non è sì, è un chilometro, beh, ecco qua la prima volta, ok, è un chilometro, ok, è un chilometro, è un buon, è un chilometro, è un chilometro, è un chilometro, è un chilometro, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.